Buongiorno, una volta la nostra città era legata e anche poco esclusivamente a Pinocchio e ora invece si sta espandendo la diffusione dell'idea di Pistoia città dei bambini. Certo, credo che Pistoia sicuramente è conosciuta come città d'arte di monumento della parte storica, soprattutto ora della prima cerchia, la sua essenza anche turistica in questa bellezza che tendenzialmente si è portati a credere che sia rivolta a un pubblico un pochino più adulto. In realtà abbiamo visto che è frequentato da tantissime famiglie, la famiglia con bambini, quindi abbiamo voluto creare un evento che per una volta fosse rivolto soprattutto ai bambini. per renderla ancora più attraente, ancora più vivibile perché c'è bisogno anche di un turismo esperienziale, non soltanto un turismo che contempla il monumento ma che anche se per pochi giorni vive la città, i suoi monumenti, le sue piazze con delle attività che abbiamo pensato collegate con un filo conduttore appunto al tema della Pasqua, al tema dei conigli e quindi creare un evento che si possa ripetere anche negli anni prossimi sia un evento appunto che piano piano anche cresca come sinergie fra tutti gli attori presenti in città e che hanno qualcosa da offrire alle famiglie con bambini. Ecco, quindi riusciremo a superare la staticità della visita nelle città d'arte che spesso interessa tanto i genitori e i ragazzi e i bambini soffrono queste visite? Sì, certo, l'obiettivo sicuramente è quello di non creare una Disneyland a cielo aperto, il nostro obiettivo non è quello di trasformare la città in un parco giochi, l'essenza, la storicità, i monumenti vanno sicuramente preservati, è quello che ci caratterizza l'autenticità rispetto a un parco di fantasia, ma può essere difficile. Però d'altra parte ormai anche il turismo familiare è cambiato, anche i bambini, noi abbiamo visto come il consorzio, le nostre statistiche che dicono che a frequentare i nostri monumenti, le nostre chiesi aperte, sono famiglie con bambini, quindi c'è un turismo, quello familiare che è in crescita, qualche volta possiamo permetterci di strizzare l'occhio anche ai bambini, pochi giorni l'anno, come durante la Pasqua, facciamo qualcosa che sia anche un richiamo in più per quanti magari non sono attratti dai monumenti, ma che venendo a Pistoia per altri motivi, per il giorno poi scopriranno anche la bellezza artistica della città. Ecco, Pistoia tramite il consorzio turistico Città di Pistoia ha partecipato recentemente a una fiera di settore, attirando molta attenzione proprio per il turismo, per le famiglie. Sì, è una fiera per le famiglie, è stata molto frequentata e le nostre offerte, siamo andati, i operatori hanno offerto degli assaggi di laboratori che possono fare le famiglie venendo a Pistoia, sono stati molto attenzati, perché un turista che è un pochino anche più attivo, cioè non soltanto viene, contempla e ammira, ma fa anche qualcosa, utilizza tutti i sensi, sia per piantare una pianta o per elaborare un vaso di treta o per seguire le braccia di un lupo, insomma è un turista che entra più in sintonia con il territorio ed è quello che cercheremo di fare sempre di più, cioè dare la possibilità di vivere, di fare appunto un'esperienza non soltanto contemplativa, ma anche soddisfacente per tutti gli altri sensi. Grazie, ci vedremo sicuramente nelle piazze e nelle strade di Pistoia per scoprire le sorprese che ci avete preparato. Vi aspettiamo, buona Pasqua!